Ilari Blasi pronta per tornare sul piccolo schermo, per lei un doppio impegno in autunno Tra due giorni tornerà protagonista su Canale 5, Ilari Blasi. L'ex moglie di Francesco Totti infatti, abbandonata l'isola dei famosi, condotta quest'anno da Vladimir Luxuria, sarà la protagonista di Battiti Live, programma musicale che condurrà insieme all'amico e collega Alvin Lo show, dirà addio a Elisabetta Gregoraci, che è stata la padrona di casa per anni, per aprire il sipario su una nuova coppia pronta a regalare musica e divertimento ai telespettatori A quanto pare però Radio Norba Cornetto Battiti Live non sarà l'unico programma in cantiere per Ilari Blasi, presto infatti potrebbe tornare al timone di un reality che dovrebbe essere proprio la talpa Al momento si tratta di rumors ma, sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha dichiarato Qualcosa bolle in pentola nell'autunno quindi, stay tuned, come dicono i giovani Segno che la conduttrice è pronta a tornare ad essere un volto di punta Mediaset a partire da settembre La conduttrice di Battiti Live punta al cinema, se dovesse arrivare la proposta giusta ci penserei Non solo Battiti Live e la talpa per Ilari Blasi, la conduttrice infatti si è cimentata anche nelle vesti di attrice nei mesi scorsi, facendo un cameo nel film con Giampaolo Morelli, che uscirà al cinema il prossimo ottobre Proprio sul cinema la conduttrice ha ammesso In realtà sono aperta a tutto perché sono una persona curiosa e mi piace mettermi in gioco, fare cose divertenti Ha poi proseguito, quindi se dovesse arrivare una proposta giusta per me ci penserei, perché no? Insomma l'ex moglie di Francesco Totti avrebbe strizzato l'occhio anche al cinema, e chissà se ci sarà un futuro d'attrice per lei Ilari Blasi, svela su Rebecca Staffelli Bella, puntuale e preparata Accanto a Ilari Blasi e Alvin nell'edizione in partenza lunedì di Battiti Live Di cui in questi giorni sono state registrate le prime tre puntate, che hanno provato non poco la conduttrice Ci sarà anche Rebecca Staffelli, che ha debuttato al Grande Fratello di Alfonso Signorini quest'anno Su di lei Ilari Blasi ha raccontato L'ho conosciuta in questi giorni, è una bellissima ragazza, molto carina nei modi, giusta, puntuale, preparata, mi piace molto Intanto, in attesa di scoprire se Ilari Blasi tornerà protagonista sul piccolo schermo nella nuova stagione televisiva, l'appuntamento con Battiti Live è per lunedì, 8 luglio, a partire dalle 21 20 su canale 5